Continental 171335L, decollo autorizzato. Un volo di linea da Denver, Colorado. Stalazione! Si schianta al decollo. L'aereo era sopra di me. E pensavo... Ok, forse morirò qui oggi. I soccorritori lottano per ore nel freddo gelido per liberare i passeggeri intrappolati. Vieni duro, tireremo fuori. Non riusciremo mai a salvare tutti. Che succede qui? Stabilito che era possibile fare un decollo sicuro, dovevamo capire cos'altro era andato storto. Ma quel lavoro si rivela più difficile di quanto si potesse immaginare. C'era molto di più dietro ed era quello che gli investigatori dovevano scoprire. Lieutenant 1010ил, stati della reddetta Grazie a tutti.